Invece AgroSport Santa Palomba, quindi trofeo del petrolio, il vostro allenatore, insomma una persona... siete voi, ecco, fateci capire un po' la vostra realtà. Beh, la nostra realtà è una realtà, diciamo, degli amici che si ritrovano il sabato a giocare. Noi abbiamo fatto questa scelta, in realtà dettata dagli impegni anche di tutti, che non ci alleniamo in realtà e quindi essenzialmente durante la settimana magari chi gioca tornei a calcio, calcetto o anche calcio a 11 separatamente, poi ci ritroviamo il sabato e giochiamo. E questo è anche il motivo per cui siamo in Serie B e non siamo in Serie A del trofeo del petrolio. Però nonostante questo, diciamo, rilasciamo comunque a dire la nostra, anche se quest'anno eravamo partiti bene, adesso siamo un po', diciamo, in fase un po' calante con qualche picco, ma soprattutto picchi negativi purtroppo ultimamente. Voi terzo tempo lo fate, penso di sì. Purtroppo. Sì, sì, no, ogni tanto il sabato, diciamo che festeggiamo compleanni oppure avvenimenti, diciamo nel caso specifico di Nicola settimana scorsa, diciamo c'è stato il terzo tempo a fine partita, partita persa tra l'altro, e quindi diciamo un po' con l'amore in bocca, ma ce lo siamo tolto col salato, come dicevamo prima. Grazie. Grazie. Grazie.